di legalità. Conferenza stampa questa mattina a Campobasso del Movimento 5 Stelle, oggetto dell'incontro la tutela del cavallo Pentro, razza autoctona presente nel comune di Montenero Valcocchiara e segnatamente nell'area di interesse comunitario di Pantano della Zittola. Secondo il Movimento 5 Stelle, che sul tema ha anche presentato un'interrogazione in consiglio regionale, gli animali sarebbero oggetto di un sistema di allevamento che metterebbe a rischio sia il benessere degli animali, sia la tutela del patrimonio ambientale di quella zona, una pianura di 2200 ettari. I capi allevati sarebbero ben oltre quelli consentiti, fatto che come conseguenza spinge gli animali ad allontanarsi in cerca di cibo e a rimanere vittime dei lupi. Il consigliere Primiani parla anche di profili di abuso che vanno corretti. Si ravvisano diverse criticità a partire non solo dal danno ambientale perché sono presenti sull'area diverse recinzioni abusive e addirittura degli sbarramenti dei corsi d'acqua fatti con dei guardrail, ma anche dei profili di danno verso gli animali perché sono presenti notevoli e grossi pascoli, addirittura l'ARPA e i rabbinieri forestali rilevano che attraverso un piano realizzato nel 2015 rilevano che su quell'area possono insistere massimo 500 capi e oggi se ne contano circa 1800. Questo provoca un danno non solo a livello degli animali, quindi di tutela degli animali, ma anche a livello ambientale perché non permette la rigenerazione dei pascoli. Sul tema il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento in sede di bilancio ma è stato bocciato. Un emendamento che è stato bocciato inspiegabilmente perché addirittura l'assessore Cavaliere ma anche il delegato all'ambiente Roberto Di Baggio hanno deciso di bocciarlo nonostante ci siano stati dei pareri tecnici da parte dei servizi competenti che invece preallertavano il decisore politico dicendo che bisognava intervenire urgentemente per scongiurare dei gravi danni ambientali addirittura di carattere irreversibile. Il progetto, l'emendamento è stato bocciato e veramente inspiegabilmente perché non si faceva altro che istituire un tavolo tecnico che potesse redigere questo progetto di transizione ecologica da sottoporre poi al Ministero della Transizione Ecologica. Ministro Cingolani il quale aveva già manifestato la disponibilità e il quale sta attendendo degli atti dalla Regione Molise, atti che purtroppo non arrivano. Alla conferenza stampa presenti anche il WWF e l'Associazione Animalista OIPA da parte di questi ultimi è venuta la richiesta di revoca dei contributi agli allevatori che agiscono al di fuori della normativa.